ho finalmente in una bella concessionaria d'auto compri la macchina no sono venuto a nuotare ma che nuoto e nuoto cretino secondo te cosa vengo a fare in una concessionaria d'auto se non a comprare un'auto nuova e la vecchia e d'accordo no dicevo l'auto vecchia a scusa pensavo parlare di mia moglie hai consigli sì sì teorema sì prendi una donna e metti che sia tua moglie e vabbè mettila in macchina davanti a un semaforo è un'ipotesi no è un semaforo sì la probabilità che lei parta quando c'è il semaforo verde è direttamente proporzionale alla quantità di rossetto che lei si è messa in pausa si diminuita della radice quadrata del tempo che lei ci mette per cercare il colore del rossetto aumentata della quantità del mascara che lei si è messa negli occhi e quindi e quindi è meglio se non ti sposi teorema matematico no amici carissimi di auto occasioni eccoci di nuovo insieme nella vita non bisogna mai accontentarsi e tanto meno nella scelta della vettura se vi piacciono le linee sinuose non dovete rinunciare alla sportività se vi piace una guida sicura non dovete rinunciare alle performance e alla tecnologia chi racchiude tutto ciò naturalmente ds e a torino ds e ds store in corso rosselli oggi tante novità quindi seguitemi perché c'è veramente da divertirsi e partiamo in bellezza con l'amatissima ds3 pensate che potrà essere vostra a partire da 150 euro al mese con la formula style drive mentre se preferite la formula lisis noleggio chiaro sarà vostra a 399 euro al mese e andiamo increscendo la bellissima ds4 che potrà essere vostra a partire da 200 euro al mese con la formula style drive mentre con la lisis noleggio chiaro sarà vostra a partire da 500 euro al mese e concludiamo con la fantasmagorica ds7 che potrà essere vostra a 393 euro al mese con la formula style drive mentre con la lisis salta la rata sarà vostra a 789 euro al mese e spostandoci di pochissimo cambiamo anche atmosfera ci troviamo nella splendida concessionaria teorema citroen qui troviamo tantissime vetture d'occasione che più tardi andremo a vedere ma soprattutto tutta la gamma citroen vi faccio qualche esempio pensate la c3 potrà essere vostra con delle rate a partire da 149 euro al mese oppure se addirittura volete lanciarvi nell'avventura di utilizzare una c3 air cross potrà essere vostra a partire da 189 euro al mese perché vuole più spazio la c4 l'auto ideale e potrà essere vostra a partire da 199 euro al mese e naturalmente non vi facciamo mancare la c5 air cross che potrà essere vostra a partire da 229 euro al mese non c'è limite al bello si può sempre migliorare ricordate la matissima formula sempre nuova ebbene sappiate che ora è ancora più accattivante e ancora più importante ha cambiato anche nome si chiama free 96 ed è davvero la formula dei vostri sogni siete in tantissimi ad essere interessati all'acquisto della citroen c3 e quindi partiamo proprio da lei con questo splendido modello che è una versione 1.6 blue hd shine 75 cavalli in un colore tanto amato che è il bianco pensate che questa vettura è stata immatricolata nel 2018 ha percorso pochi chilometri e potrà essere vostra con un trattamento speciale perché il prezzo di 15.500 euro ma esclusivamente per voi che state seguendo la trasmissione potrà essere vostra a 13.500 euro più voltura grazie al pacchetto free 96 oltre alle vetture più accattivanti teorema citroen è caratterizzato da un'altissima professionalità da una capacità davvero di riceverci con cura e ne è un esempio colui che è sempre qui al mio fianco a cui passo la parola che è il mitico pino ciao federica grazie in citroen non trovate solo le c3 questa è una splendida polo 1.400 turbo diesel è una vettura che è stata immatricolata nel 2017 14.900 euro a nostra richiesta ma col free 96 e solo per voi che è seguita la trasmissione a 12.900 euro più voltura se state cercando una vettura compatta ma sportiva con delle linee davvero accattivanti questa vettura fa per voi stiamo parlando dell'opel corsa in questo caso in una versione 1.400 gpl tech 90 cavalli immatricolata nel 2019 a un prezzo di partenza di 13.500 euro ma sempre per viziarvi solo per voi potrà essere a casa vostra con una cifra di 11.500 euro con la formula free 96 signore attenzione al chilometraggio di questa vettura è una splendida toyota e go immatricolata nel 2022 pensate percorso solo 3.000 chilometri per voi a 15.900 euro però con la formula free 96 a 13.900 euro più voltura una versione particolarmente interessante della citroen c3 che è la versione aircross come vedete più spaziosa anche più sportiva in questo caso con un colore bianco abbiamo la versione shine 110 cavalli benzina immatricolata nel 2021 ha percorso pochissimi chilometri unico proprietario potrà essere vostra con una cifra che adesso veramente vi lascerà a 4 perplessi perché invece che 23.500 euro grazie alla formula free 96 sarà vostra a 19.900 euro in teorema trovate anche in fuoristrada questo è un meraviglioso vitara è un 4x4 è una macchina che è stata immatricolata nel 2021 è un chilometri zero la nostra richiesta di 26.500 euro ma solo per voi 24.500 euro compreso di voltura pino mi piace sempre molto venire da voi perché ci sono davvero vetture un po per tutti i gusti è vero è vero federica ricordo teorema in corso rosselli 181 vi aspetto numerosi abbiamo 500 vetture a vostra disposizione un saluto carissimo da parte di teorema citron auto occasioni pino e federica